Ciao a tutti amici di Monclick e Monclick Magazine, ben ritrovati! Io sono Maria Frassetti e oggi vi voglio parlare di aspirazione delle superfici domestiche. Ci troviamo infatti nel pieno delle pulizie di primavera, quindi non potevo non raccontarvi i 5 motivi per i quali dovreste scegliere la scopa elettrica X-Force Flex 11.60 Animal Care di Roventa. Prima però di entrare nel vivo di questo video sapete quello che dovete fare, iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sui video che pubblichiamo. E adesso sigla! Motivo numero 1 La flessibilità Quello che è il tratto distintivo di questa scopa elettrica Roventa senza fili si intuisce già dal nome stesso ed è appunto la grande flessibilità. Grazie infatti alla tecnologia Flex, quello che in apparenza sembra essere un braccio di aspirazione qualsiasi, nasconde nella parte centrale uno snodo, per cui una volta premuto il tasto dedicato, il braccio riesce a piegarsi su se stesso fino a formare un angolo di 90 gradi e anche superiore a seconda delle necessità. Il vantaggio di questo sistema è presto detto, pensate a quando dovete aspirare il pavimento sotto ad un mobile basso, quindi per esempio sotto a un letto, al divano oppure a un tavolino. Bene, in tutte queste situazioni molto probabilmente vi dovete chinare, quindi piegare sulle ginocchia con la schiena e magari anche allungarvi per poter arrivare in profondità. Ecco che con la nuova scopa elettrica Roventa tutta questa fatica non sarà più necessaria proprio perché sarà la scopa a piegarsi, per così dire, al vostro posto e quindi voi potrete stare comodamente dritti in piedi, tenere la scopa in mano e comunque arrivare in profondità. Motivo numero 2, la potenza. La scopa elettrica senza fili Roventa X-Force Flex 11.60 Animal Care è sicuramente una scopa elettrica potente, questo perché è dotata di un motore Digital Force che arriva a 130 Watt e una tecnologia di aspirazione ciclonica. La potenza è regolabile, esistono sostanzialmente due modalità di aspirazione base, la prima è quella eco standard per la pulizia quotidiana di tutte le superfici e la seconda invece che prevede una potenza di aspirazione maggiore, in particolar modo da utilizzare sui tappeti e sulla moquette. A queste due si aggiunge la modalità Boost che è attivabile con un grilletto posizionato sull'impugnatura che permette di dare una potenza ancora maggiore alla scopa per lo sporco più difficile. Motivo numero 3, l'autonomia. Questa scopa elettrica Roventa senza fili è sì una scopa potente ma allo stesso tempo offre un'autonomia di aspirazione davvero interessante. Infatti grazie alla batteria a litio a sette celle da 25,2 Volt è possibile raggiungere i 45 minuti di autonomia in modalità standard. Un'autonomia dichiarata da Roventa che però ho riscontrato essere effettiva e reale. Infatti per quella che è stata la mia esperienza personale posso dire che con questa scopa elettrica Roventa sono sempre riuscita ad aspirare il mio appartamento che è di circa 65-70 metri quadri con una sola ricarica che si completa in circa 3 ore utilizzando sia la modalità standard che la modalità massima di aspirazione impiegandoci circa 30-40 minuti. Motivo numero 4, il display LED. Nonostante il design futuristico e avveniristico di questa scopa elettrica Roventa, il suo utilizzo è davvero molto semplice e intuitivo. Questo è possibile perché dispone di un display LED colorato posizionato sulla parte superiore, sul corpo principale della macchina e da qui è possibile settare le modalità di aspirazione principale ed avere un po' tutto sotto controllo durante le pulizie. In particolar modo, come vi accennavo nel punto precedente, è possibile andare a regolare la potenza di aspirazione nelle due modalità Eco e Massima e poi è possibile visualizzare lo status della batteria, dare quindi a vedere il livello di autonomia. Motivo numero 5, la versatilità. Questa scopa elettrica aeroventa è sicuramente un elettrodomestico versatile in quanto può essere utilizzato per aspirare qualsiasi tipo di superficie e qualsiasi tipologia di sporco secco. Partiamo col dire che la parte superiore della scopa, quella che sostanzialmente contiene il serbatoio raccoglipolvere e il motore può essere rimossa e quindi può essere trasformato all'occorrenza in un aspirabriciole. A questo si aggiunge il fatto che la scopa viene fornita con un kit di accessori in dotazione, un kit molto diversificato per soddisfare qualsiasi esigenza di aspirazione e di pulizia della casa. Oltre alla spazzola principale per l'utilizzo quotidiano su tutte le superfici, abbiamo una mini turbo spazzola per i peli degli animali, una spazzola per gli imbottiti, quindi per i divani materassi ad esempio, una spazzola per le fessure e i punti più ristretti e infine due spazzole circolari multiuso integrate nella scopa stessa. Ricapitoliamo insieme quali sono i 5 motivi per i quali dovreste scegliere la scopa elettrica X-Force Flex 11.60 Animal Care di Roventa. Motivo numero 1, la flessibilità. Motivo numero 2, la potenza. Motivo numero 3, l'autonomia. Motivo numero 4, il display LED. Motivo numero 5, la versatilità. Termina qui questo video, spero che vi sia piaciuto. In questo caso fate un bel like e ricordatevi, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sui video che pubblichiamo. Io vi saluto, sono Maria Frassetti di Monclick e Monclick Magazine, ci vediamo al prossimo video, presto, ciao!